Disoccupazione alle stelle in Campania? Sono circa 170.000 senza lavoro nel solo capologo campano, mentre negli ultimi quattro anni la cassa integrazione è aumentata del 380% in tutta la regione. I numeri preoccupano ancora di più se si pensa che nell'ultimo biennio sono circa 20.000 giovani con altissima scolarità, laureati, spesso con il massimo dei voti, che hanno lasciato la Campania. Negli occupati la scolarità è minima, arriva la quinta elementare, bassa manovalanza, si investe pochissimo su innovazione e ricerca. Questo fa capire perché i giovani sono andati via. Ad affrontare le problematiche del lavoro a Napoli sono state le associazioni cattoliche attive sul territorio. I giovani, la famiglia e il lavoro a Napoli nel tempo della crisi è il titolo del convegno organizzato da ACLI, Movimento Cristiano Lavoratori e Forum delle Associazioni Familiari. Nel corso del convegno è stata presentata anche una ricerca realizzata presso gli sportelli delle ACLI di Napoli all'interno del progetto FlexiFamily, realizzato con il contributo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Tra i relatori del dibattito, Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori, e Francesco Belletti, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Nel momento in cui la crisi economica avanza, la famiglia è il primo nucleo a risentire di questa crisi. Sono famiglie costruite da giovani, ma che vivono su quelli che sono i risparmi dei genitori che hanno accumulato nel passato. E questo ovviamente comporta doppia difficoltà. Ecco, forse in questi giorni è poco consolante vedere che il tema lavoro è un po' scomparso dai nodi su cui si sta discutendo. Si parla di persone, si parla di alleanze. Invece qua la vera questione è come rilanciare l'economia investendo sul lavoro.